Brutto incidente capitato nella giornata di oggi sabato 31 agosto in tarda mattinata sull'autostrada A23 nel tratto che porta da Gemona a Carnia in direzione Tarviso all'altezza del chilometro 51. Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato a sinistro ma si ipotizza sia stato un tamponamento multiplo che poi accatena. Ha ovviamente interessato man mano altri veicoli. Secondo le prime ricostruzioni sono sette i mozzi coinvolti con una ventina di persone a bordo delle vetture. Di queste quattro sono rimaste ferite in maniera fortunatamente non grave. La centrale operativa regionale Sores FWG ha dirottato sul posto tutti gli equipaggi e i volivoli disponibili con l'autostrada che è rimasta chiusa al traffico per un paio d'ore con una coda che ha raggiunto gli otto chilometri. Poi poco dopo le 14 l'incidente è stato risolto con autostrade per l'Italia che ha sottolineato come ormai si circoli normalmente su entrambe le corsie. Disagi ovviamente per tutte le persone coinvolte soprattutto i turisti austriaci e tedeschi dal momento che tutti i mezzi coinvolti nell'incidente sono inutilizzabili.